Sì, infatti credo che noi esseri umani non siamo stati creati per essere felici. Noi spesso viviamo tanto nella sofferenza, ma fa parte della nostra natura. Quello che fa la differenza è accettare questa cosa, secondo me, e capire che non esiste la sofferenza e non esiste la felicità, c'è una via di mezzo. E quello forse è il modo migliore, diciamo, non per essere felici, ma per vivere con consapevolezza.